Come è? Non mi ha chiamato? Sì. Dimi di ricordarsi che ho sentito anche a casa. Sì. Faccio la chieda a casa? Dai mi dici. Sì, non mi dici. Sì, basta il soldo. Alta il soldo, tutto. Dipende il tempo ma arrivo. Arrivo, eh. Ma ho già passato le lettererine. No, non ho ancora preso tutte, ma ne ho parecchie da prendere. No, ma la mia l'ha già presa. No, l'ho provato di questo qua perché così è una sorpresa. Adesso mi ha fatto la tua rarretto. Quando vedo l'indirizzo, hai capito? Sì, grazie. Auguri. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Guarda. Baffo. Baffo, l'anni ci sono. Prima vai a Baggio. Baffo. 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 Prego, piazza. Ragazzi, non lo conoscete? Non lo conoscete, non lo conoscete. No, non lo conoscete. No, no, no. No. Auguri. Auguri. Ciao, 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 ciao. Ciao. Si sta lacrbendo. Okay. Si. Dio. Vichi, auguri. Ciao. Happy Christmas. Happy Christmas. è facile ciao 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 io c'è il cavolo di rete c'è il cavolo di rete è una bambina, giusto? ma buonanale, è 13 anni con il 25 quando sono nato io hai visto? ciao buone 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 signora, signora, signora grazie buonanale grazie mille, grazie